non ho paura di testare in ladder a costo di compromettermi il rank tanto lo recupero allora quando avremo un drago abbiamo vinto molto semplice bello il saltino del trioma ci piace ragazzi cosa avevo detto il meta sarà questo fine eccoci va ora se non pisco terra impazzisco io per io non so cosa di non so cosa fare non so cosa fare 27 terre gioco con le modali che cazzo devo fare che cazzo devo fare no grazie magnanimo lei come umano dai ora anche ora lagga anche la connessione perché quanti wifi ci abbiamo accesi 15 amore può togliere il wifi dal telefono può provare a togliere il wifi dal telefono o non lo so sta andando tutto pianissimo però no no non è la connessione è arena ok perché io guardo i miei avversari fare quello che faccio io non avessi skipato il turno 2 ora avrei fatto tutto non è andato a Sì è un po' ridicolo però Cioè è così veramente ridicolo Io non posso continuare a perdere i mirror Perché a me si chioda E la gente pesca tutto per bene Dai ci guardi e concedo Ecco, vai, prossimo No, l'ho detto è controllato Tutto tranne il mirror Se mullico di nuovo Cancelo il mazzo È andata bene Devo mimare una Chihuahua che non c'è, vero? No No Cosa ha un mana? Blu Che non è FDNOP Spell Pierce Vai a farlo No, Spell Pierce non può farlo Se non c'è il target Non è la Spell Pierce C'è qualcosa Un mana blu Che può fare senza target Quindi ora quanto mi viene counterato Goldsman? Sai Marcia Può essere Può essere Può essere Uno down Uno down No, cazavage No, cazavage No, pass No, cazavage No, cazavage No, cazavage Sì Givari strana Devo dire So che non rischio Go blank Oddio, molto forte go blank Nel mirror con l'ear Però Perché non lo gioco? No, cazavage Ciao Marco Ok arena oggi è una merda Cioè Veramente Ingiocabile No Stop la registrazione Ah Pensavo avessi chiuso a live No Non ti dico niente Sei ribloccato? No vabbè ragazzi Cioè Ah ok Ah è lui che fa i triggerini del cazzo Mmm Sigh Ok Nelmo Entro quanto ti vedo Partecipa a un torneo online Quando deciderò di farne uno Al momento Non c'è niente che mi interessi E poi i tornei Se non sono Pro tour Sono brutti a vedessi Proprio come Modalità di gioco Sono sceni Già devo fare un turno Poi 40 minuti di niente Non posso giocare nel frattempo Perché se no mi inizia il turno Devo concedere E' uno schifo Non posso giocare A te. Sì, ho provato a fare un Grixis, ma più vado avanti più mi sta venendo in mente di fare Dimir. Lo so, io so così, non ce la faccio. Ok. Signor Capretti, cosa ne pensa del meta? Signor Capretti, si metta a fuoco, per favore, signor Capretti. Porca trono, riesco a mettermi a fuoco per me stimmiarmi, madonna. Signor Capretti, lei esagera. Ogni volta lei mi esagera. Prato, sapete che il signor Capretti oggi è quasi stato partecipe di un colloquio? Posso raccontarlo? Posso raccontarlo del signor Capretti? È stato quasi partecipe di un colloquio. È stato partecipe. È stato partecipe. L'hanno visto? Sì. Ah, allora è stato partecipe del colloquio. Il signor Capretti è apparso nel colloquio importantissimo di lavoro di Silvia. Perché gli hanno detto vendimi qualcosa che è davanti e lei ha tirato fuori il signor Capretti. Bellissimo. Anche l'anello di Barbie, è bello. Sì, come cazzo lo vedi? L'anello di Barbie è due uomini. Figlie. Eh, non ce l'avevano. Non ce l'avevano. Parenti. Ma lui lo deve comprare adesso. E allora gli ho venduto le cuffiette, dai. Insultandolo che le sue cuffie erano brutte. È fatto bene, The Wolf of Piombino, esatto. Sì, effettivamente è scammato da The Wolf of Wall Street. E poi mi ha detto, ma scusa. Cosa? Non devi prendere una penna e vendermi quella prendendo dal film. Adesso no. Vale. Ok. Grazie. 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 Signor Capretti si vende da solo, esatto. No, l'ha venduto le cuffiette, non il signor Capretti. Però ci è mancato tanto così. Cos'è? Cos'è? Ok Posso? Sì è inata ragazzi È G-Sky inata So I'd like to say Fiderazione Dai turno vinta Allora Iniziamo Allora 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 è serio persone che non sanno giocare a magic scusami dove sono i miei turni dov'è il mio turno il mio turno aggiuntivo dov'è mi rendiamo conto che è gratis questo sto iniziando ad inalberarmi dov'è Gambit Cristo dove cazzo è Gambit ce l'abbiamo fatta figa aspetta tecnicamente potrei fare tutto ma non ha troppo senso alò Epiphan is back questo doveva succedere cazzo una volta c'è girato meno male ok nemmeno serviva Galvanic ma lo fai per lo stress mmm è che Prispani Command con quel cazzo di Bankbuster quasi quasi quindi sappiamo chi è ora in primo momento tutti no dai due a questo punto Valky è forte eh ma lo vogliamo battere il meta o no inata di Oppo timida abbastanza comunque raga avete visto perché ho vinto è solo la prima partita su quattro che ho risolto un Gold Spandragon semplice pescato tutto il mazzo lo trovavo prima o poi si gioco un sacco di Explorer io Darlene ho gioco un sacco di Explorer ogni tanto anche Draft ma ora un attimo ho mollato il Draft perché dici tanto tutta una settimana c'è soltanto il Championship Draft sì ma è inutile continuare ora a fossilizzarmi sul Draft tanto il meta è quello ok we have the combo no no io ho fatto questo mazzo per battere quello che sarà oh comunque ci sbaglio mai una volta ragazzi ci sbaglio ogni tanto mai delmo cosa troveremo in ladder inata izet mil e quanto mi countera se gioco qualsiasi cosa dai tre in mana niente non mi counter iteration non posso jarum cat rest ok Nessun problema Oddio potevo scartare shatters No ma se pesco un'altra terra questo me lo tengo come bot Ok Nessuno ha furia giusto? Un bel negate però Mi sta sul cazzo a me Buckbuster Boia se mi sta sul cazzo E ti segui Molto bene Grazie marzo per il follo Same Nulla si passa Grazie Yggdrasil per il follo Benvenuti tutti quanti Nell'umile server della gleba Entro E' terra Si prova? No Provo con feboli Ottimo Ottimo Benvenuti 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 Sta bene Muy bien Questa facciao ciao con la manina Molto bene Allora Let's go Let's go Goldspan Dragon e suo figlio hanno risolto Sono qua Ho scaltato un goldspan Oh 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 ove it's over oh puss oh puss è quel poke? oh puss Soul Shutter, bello. Maestro Charm, carino. Tutto si è comportato bene. Direi. Tutto è andato esattamente come doveva andare. Maestro forte. Il 1.500 con l'IR. 90% se perdo è finita. Il 1.500 con l'IR. Il 1.500 con l'IR. Il 1.500. È un EZ Splash nero Sì, non è a Grixis Fine Posso sparare tre danni faccia Se voglio Si è allenato oggi? No, ma le no stasera Delmo dimmi delle parole consolatorie Per il gioco del calcio che tante delusioni mi ha dato Smetti di seguire il calcio Non avrai più delusione Credo che la migliore sia Givari Non sto scherzando Vengono battuti dall'aggro Si sta lì a guardarlo Io non sto lì a guardarlo Cioè, cerco Allora, cerco di farvi rinsavire Ok Vi faccio capire cosa vuol dire Stare male Per la squadra di calcio Che ha perso Ok In questo momento sei deluso Della prova sportiva di persone Che non conosci Che non hanno a che fare con la tua vita Che guadagnano soldi Indipendentemente dalla loro sconfitta E dal tuo dispiacere E te chiuso nella tua casa da povero Stai male Perché loro laggiù Non hanno buttato un pallone Dentro una rete Con un comparto Un comparto Diciamo Monetario Di milioni E te E te A casa tua Per loro Soffri Risolto Spero che tu non stia più male Ma le passioni Allora Fermi Fermi La passione che intendo io è Io gioco A magic O io gioco A pallone Perdo Piango Perché mi sono impegnato tanto No Nuba Nuba Sto dicendo proprio questa cosa qui Io Io Gioco a qualcosa Io Perdo Io soffro Perché mi sono impegnato tanto Perché non ce l'ho fatta Perché ho fallito Ok Loro Si sono impegnato Tanto Chi lo sa Loro hanno perso Te Soffri Che cazzo Cioè io posso capire Mannaggia Eh questo è il mio massimo di Cioè Di tipo Io tifo A magic Vedo i mondiali Tifo Paolo Vitor Paolo Vitor Non vince Arriva secondo Faccio Mannaggia E che sto in casa e piango E se vinco non vado a sfilare Boh Se no me è già da l'ier Fa una stronzata Eh no Io passo Anzi no Il gioco No non posso Faccio Galvanic E mi scordo No dai Sto analizzando Il discorso Mi hanno detto Sto male Questa vorrei Hunterarla Io lo sai Ma purtroppo Non se puede Sì ma la passione Per il gioco La capisco Benissimo Ma è lo stesso Identico motivo Quando vincono E sfilano Non hai vinto Un cazzo te Te non hai vinto Niente Ibrahimovic Non ti viene a suonare Il campanello E ti dice Tieni Te sei tifoso Tieni la percentuale Di quello che abbiamo vinto Noi Col cazzo Ti cagano in faccia Non esisti Cioè io Sono contento Della passione Dei giochi È bella La passione Ma se vinci Fai Se figata Se perdi Fai Mannaggia In nessuno Dei due estremi Nessuno Dei due estremi Dell'andare in depressione Se la squadra perde O l'andare In ultra In estasi Se la squadra vince Non ha senso Non ha senso Minimamente Nel frattempo ho vinto Senza fare nulla Ok Io ho vinto Questa partita di Magic Non ho fatto Niente L'avversario è andato In panico Perché non poteva Fare niente Perché aveva Una mano piena Perché era Orzov Era Orzov Mi diceva Una mano piena Di removal Verso E così non stavo facendo nulla Allora Non facile Vabbè Negate e stroke Sono sempre forti Bar down the house Sì perché Chaplain's walker Credo che Mi potrebbe abbassare Una leer Valky molto forte Fedinop Contro i pippoli Ah No sì sì Forse è che Sinderclass Tolgo una fable Sì Fedin è forte forte Se Sinderclass No Sinderclass Sì c'è un sacco Di pippoli Abbasso Goldspan Sun charm Un iteration E un windfall Vai Magari sono strano io A me mi rodi di più Non quando perdo io Ma quando perdo qualcuno Ho una squadra che tifo Perché nel primo caso Sei responsabile Della sconfitta Comunque uno sfogo Delle promozioni Nel caso tifiri Tu risulti impotente In quanto non sei artefice Nemmeno in piccolo Di ciò che accade Ma tu non sei artefice Nemmeno in piccolo Di ciò che accade Di qualcosa Che a te Non viene assolutamente Niente Nulla Nulla Niente Io sono stato tifoso Giants Per esempio Quando vincevano Ero gasato Quando perdevano Facevo Ah mannaggia Vabbè Amen E' fastidioso lui Molto Mi servirà Il bar down The house Bar down The house Tuturutu 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 Sì Ma sto dicendo Non dico di non tifare Dico di darsi Una carmata Sia nel bene Che nel male Allora Questo trespasser Vince da solo Se non ci muoviamo Però è vero Che lui non ha Troppi modi Di impedire Il mio Turn infiniti Cose E' male Allora Allora Alla prossima turno Facciamo schifezza Prossimo turno We do big schifezze Ragazzi Big schifezze Stiamo prendendo Un po' di danni Da questo stronzo Ok Ci sto Possiamo arrivare Anche a tre Contro Orzov Non ha Rich Quindi Cosa che avrebbe Gocando Mardu Stiamo un attimo Calmini qui Per favore No Io non faccio In tempo A fasto Fable Cazzo Però E No È troppo forte Eh Lo fai Sì Ottimo Ray EPS R3 Ma No È Arena Che si Blocca Che va Che zoppica Grazie per il prime Ray Grazie per il prime Seguito di tutto È vivere come vive Cina Biondo Ricco in un'azienda Della madonna Giocando a magic Fidanzato felice Beh sì Credo sia Tipo L'obiettivo di tutti Nel mondo Nel senso Sì Grazie 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 mille Apprezzo Spero che questo prime Venga Rifatto Tutti i mesi Perché continuo a meritarmelo Grazie mille Ray A me manca A me manca il rico Perché l'azienda Della madonna Se si considera twitch Sì A me manca il rico E con la macchina Aziendale Certo twitch Potrebbe dare la macchina Aziendale Alli stream No Tu ci potrebbe Dalla macchina Aziendale Alli streamer Giochi a magic Puoi essere felice Questo discorso Potrebbe andare Molto per le lunghe Vanishing burst Glielo facciamo fare Oppure Io prendo Sto ma No Sì Sto accontando Se ho po' All'ital dopo Sono 4 7 8 E one off Prof ed in hop Questa la rimettiamo In Mario Ora è un po' Rotto il cazzo Te lo dico Tu calei Tu calei Tu calei Tu calei Big squad Ok Ora puoi togliermi Perché mi interessava Più che altro Reservation Bar down the house Poco Eh maffi La carta più forte Dello standard Rimane goldspan Vero E chi è che ha Continuato In perterrito A mettere goldspan In tutti i mazzi Compreso Jand Izzet Grixit Il vostro Streamer preferito Zio Garbe No Peccato che uscirà Standard T2 Allora intanto Sgorlax Grazie per chiamare Lo standard T2 Perché mi fai venire I feels Uh Allora Questo si fa prima Che Sigh 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No ho avuto un attimo Un turno un po' di pussi e devo No mi piace parare Quel cave volante Maffi Mi piace parare Quel cave volante E poi ti dice vabbè ci avevi i surge Non si sa mai Non si sa mai Beh Non male Se sta comporta bene Abbiamo avuto abbiamo sfigato le prime partite Decisamente sfigato le prime partite 3-1 Ho 2-1 Alla prossima Eh ma perché non avere l'opzione turno scusa Alchem in questo momento fa cacare E' bello soltanto il mono nero di maffi Un attimo mi muto Un attimo Scusate stavo Hello no ajan plays today Yeah I'm playing it later No Si Ragazzi voglio un tè caldo Secondo voi voglio un tè caldo Non lo so No sto bene Fermo Scusate Uh tavolo Del caldo onesto Perché piove Stava piovendo prima no Non lo so Stava piovendo Si sono ucciso a fare delmo in best of one Sono ucciso a fare mythic in best of one col boros botte Bravo che l'ho un gran mazzo per il best of one ragazzi Dopo si rifà anche ne ventino boros schiaffi best of one E' giguari su questo Ma va bene Va benissimo Sai che Stai giguari non lo sarò mai più Isci dalla fronte Probabile E' memoria di lucca Ma ragazzi 88% se perdo Perdo E' finita la mia vita Parola del potere Muori Domani sera c'ho potfinder Sì Guarda Sì Poison the cup Atomiti con grixis vampiri Figo E' figo quel mazzo Vabbè sicuramente tra queste voglio gold spawn Però non so se lo gioco adesso Behold o poison Non so Non so Sweet coming Va bene Va bene Dimir snow control Avrà un milione di pizzicottine Ah mannaggia Vabbè Ok Ok Ho fatto massacro voglio dire Niente di troppo Trascendentale So fare tutto So fare tutto Fermi Falchi la vince Eh Questo mirror di control Buffo Se scende Tibalt E rimane E' GG Sette mana dell'age Mi piace Cri 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 Di vega Comunque E niente Ce l'hai spell Pierce E ce l'hai Bravo Se non ce l'hai F A parte non basta Spell Pierce Quindi Sibaldo E' finita Non è meno male Vesta Vi dirò la verità Maffi Non farmi tornare Ai feels Per Monica Perché se no Poi mi ricordo Quello che ho provato E poi ho bisogno Di rigiocare A Doki Doki E poi Rivoglio Project Libitina E il Project Libitina Ancora non uscirà Quindi Sto male Ok No Tebaldo Vabbè Bimbi Mastolital Per evitare Counterspell Oh Ma con Galvanic Iteration Maestros E sei danni Cioè Nel senso Ti devo dire Non è che va sottovalutato Sei danni Cioè Con iteration Charm So sei danni Nel viso Per chiudere Doppia iteration Charm So nove E ti segue Non è che Forse Allora Una hop Mi piace Perché salva I miei pezzi Sorge via Bardown Via Smashing È una terra Non la posso Togli Eh Tolgo i turni Sì Tolgo i turni Non vinco i turni Non posso fare i turni Oh Vedo 10 Mi sto convincendo Che il Che il Charm Ha assolutamente Senso Sei No no Allora Più che sei vite Io vedo Sei danni Nel viso chiusa Ha tante chiusure Questo mazzo C'ha i turni C'ha botta Charm Is there Geeks Is built For best of one I think you can play This in best of one Without changing A single card In the main deck Maybe What do you think Ti va a mettere in Difficile Stolto Scusa È un grande giorno Per te Ma che stavo riposando Mi vedo È un grande giorno È un grande giorno Che stavo È un grande giorno È un grande giorno Dragon, turn, dragon, turn, dragon, turn. Come in stroke. No, stroke fa schifo. Stroke in best of one fa cacaveveveve. Fa cacaveveveve. Però negate è forte. Perché anche gli aggro hanno le non creature. Negate è forte. Questo è G-Wari 100%. Mi sto fermo io. G-Wari, sweet coming, cazzate. G-G, killiamo un squeezie. Negate sia, my friend. Negate sia. Eeeh, la madonna. Quante cose fa maestro, scherm? Ok. No, non lo scoro. Ancora. Io prendo terra stappata. Oppure. Vabbè, devo prendere la carta migliore, dai. Tre goldspan non mi serve. Iiiiiiiiiiii... G-A-Wazza la pasca, tz. Non passa, vero? No. ... ... grazie a tutti basta di osso non me l'aspettavo effettivamente la creatura se me lo spacca mirror e anche goblank io dovrei giocare goblank contro 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 faccio iteration goblank finita e ti segue grazie tumaga ho pensato il budello di tumaga scusa scusa però lo dovevo dire è un bel nick però mi ha fatto pensare il budello di tumaga e non ci ho potuto fare niente è andata così io azzardo un drago o è troppo azzardo una leer insomma cosa si a posto meglio si no a livorno si dice il budello di tumaga la tumama però fa ride non era direttamente per te bella teo spell pierce non puoi leer ha risolto quindi vuol dire non può essere counterato più nulla giusto cosa mi levi draw the star dragon leer galvanic charm lethal galvanic turns lethal dragon valky stuff cosa sta targettando questo charm glielo tiro cazzo bene lo so che non funziona ragazzi per cui l'ho detto glielo tiro non scarto ragazzi madonna bimbi eh ora eh ok che pesco quando c'è narset però ormai 3 spasser l'ho imparato no avete fatto bene avete fatto bene perché sto chiacchierando quindi avrei potuto rischiare però tranquillo lo sapevo ok fastidioso cosa tolgo c'è una spell con flashback esatto sti due mana stappati io vorrei fatti i vault diretto due questo è un'ottima cosa per me capite cosa vuol dire che non ha un altro blood in the snow cioè non ha removal di massa quindi non ha blood in the snow per valky vero perché non attacchi con la terra era fortissimo attaccare con la terra vabbè grazie selitin dion eh ti chiami selitin so se gli speed deluge mi ha emozionato il pene ve lo dico oh nice more mana more mana si è tappato si è tappato che caro che simpatico che giovine che giovane simpatico vabbè tibalt dura quanto un rutto se attacca con la terra paro ovviamente massaggio ok allora questa persona ha tenuto contro izet massacro previdente oh si mi fai fare un turno di tibalt ti prego oh si ho un po' godo questo era un po' era un tuono ma più che altro il fade in hop che mi piace perchè non può fare removal sull'ear stroke mi fa incazzare mazzo soy god questo male se lo ricorda c'ha una terra 77 world ciao buon ritorno dal lavoro lume sto giocando izet splash grixis per battere gli altri izet edge sky sta funzionando secondo me si è scordato che c'ha una terra che è un 77 world ho come questa sensazione non ve lo so spiegare bibi 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 sei un bufulo sai stupido bibi minchia la guerra dei valori veramente questa cioè io ho finito le rature no ce l'ho ce l'ho una forte invoctisperm lo tengo per dopo quando ho risolto il signorino no no se fa goblank è differente quindi tanto vale diciamo che pizzicotta fa il suo continua ragazzi non ce l'ha dai palese non ce l'ho hold si si risolve risolve anche perché lo tolgo despair quindi non ce l'ho ma che è 1, 2, 3, via Oh, ok Ah, declin, counter Meno? Chi ha vinto il campionato? Eeeh... Coso. Co... Coso. Non mi ricordo più. Coso. Gen Merkel. Esatto. Quello è Giavinata. Teoteocoli. Ecco. Chiamiamo le persone con il loro nome. Teoteocoli ha vinto. Coso. Esatto. Coso. Ma l'unica cosa che ti ho paura è massato da un miliardo. Ma minchia. Se fa massato da un miliardo ti attacco due volte di terra. È il figlio della Merkel? No. È parente? Davvero? No. È il padre? No. È il fratella. È il sorello. È il commercialista. No. Non lo so. Abbiamo fatto il sabato da giovani e non lo siamo più. E se te lo sei sta diventando vecchia quanto me. Io sono vecchia. Ok. Oppo c'ha quattro counterspelle in mano. Vabbè. Poi? Ok. Non me l'aspettavo. Attenzione. Attenzione. Ora però gli ho ricordato che ce l'ha anche lui. Bitch. Mirfè. Non. Non. Dipping. Non. l'each Io non ho perso Perché io non ho perso Fammi come state Io ho 6 minuti in più No aspetta ho fatto una cazzata Ma se c'è un blocco Che basta No ho fatto una cagata No ho fatto una stronzata C'è un blocco passo Niente Eh no L'ho animata a cazzo di cane Gli ho dato la possibilità di un removal Se c'ha dukhanter ho vinto Ah ma perché nel mio cervello Non lo fai un attacco del genere Se non hai modo Bro ma che cazzo hai fatto Minchia 88% con firmed Ma che attacco era Che il mazzo è anche bello È un'idea che c'avevo anch'io di fare Dimir Che per Grazie a tutti.